arte casa vi propone in vendita questo immobile che rappresenta un ottimo investimento con una redditività del 7,5 per cento affittato ad avviata attività di bar e rivendita di prodotti alimentari conosciuta e dinamica realtà ricettiva l'immobile è ubicato in viale roma a novara uno dei corsi principali della città zona molto servita e densamente abitata si precisa che non è in vendita l'attività ma solo le mura del locale per tutte le informazioni specifiche su questo interessantissimo investimento potete contattare arte casa al numero di telefono 0 3 2 1 33 90 30 arte casa l'arte di vendere case